Ringraziamo signorini Otello di avere combattuto il nemico sui campi di battaglia, militando nei ranghi dei patrioti, tra quegli uomini che hanno portato le armi per il trionfo della libertà, svolgendo operazioni offensive, compiendo atti di sabotaggio, fornendo informazioni militari. Con loro coraggio e la loro dedizione, i patrioti italiani hanno contribuito validamente alla liberazione dell'Italia e alla grande causa di tutti gli uomini liberi. Nell'Italia rinata, i possessori di questo attestato saranno acclamati come patrioti, che hanno combattuto per l'onore e la libertà. Firmato Alexander, generale comandante in capo delle armate alleate in Italia.